Andate a seguire Samuele Colombini, ovvero Sam Arkham Art, che mi ha fatto dei disegni per Malum e dei disegni del mio personaggio. È molto bravo, accetta commissione a pagamento, vi consiglio di chiedere a lui se volete dei disegni, è veramente bravissimo. Inoltre ragazzuoli, andate a seguire una pagina di Instagram molto bella, che porta dei contenuti abbastanza divertenti, dei bei meme e tanta altra bella roba. Si chiama Dragon Ball Italia Official, tutto separato da un trattino, tutte le parole sono separate da un trattino, trovate il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, andate a seguire queste due pagine su Instagram e andate a recuperare i video della settimana scorsa, che purtroppo però sono andati male. Detto questo ragazzi, vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi, prima di cominciare appunto il What If, voglio parlarvi di qualcosa che sta succedendo sul canale. Come potete notare, i video stanno prendendo sempre meno visual e la crescita del canale si è ridotta drasticamente, perfino arrivando a quando avevo 100 iscritti, che facevo magari 3 iscritti al giorno, 4 iscritti al giorno, che non sono assolutamente tanti, anzi sono pochissimi. Questa cosa mi sta facendo pensare e le possibilità sono due. O il canale sta annoiando e quindi magari c'è bisogno di cambiare, oppure YouTube mi vuole penalizzare, non mandando le feed e magari non mettendo, magari nella home page o in altre sezioni, il mio canale, penalizzandomi senza motivo. Quindi ragazzi, se dovesse essere così, YouTube mi sta penalizzando. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se secondo me è arrivato il momento di cambiare il canale, oppure se è semplicemente un periodo a causa di YouTube che vuole penalizzare. Detto questo, passiamo al What If. Oggi siamo con l'episodio 12, vedremo appunto il seguito dopo lo scontro tra Barotto Blu, la fusione tra Goku e Bardak, e Golden Cooliezz, la fusione tra Freezer e Cooler. Chi sono questi due individui? Andiamola a scoprire insieme nel What If. Chi sono questi due individui? Andiamola a scoprire insieme nel Nell'episodio precedente abbiamo visto il devastante scontro tra Golden Cooliezza, la fusione tra Cooler e Freezer, e Barotto Blu, la fusione tra Goku e Bardak. La sopravvivenza di Saiyan è stata messa a repentaglio dai due fratelli spietati, che, durante lo scontro, hanno ucciso Radice e Lex Revegeta. Dopo lo scontro tra le due fusioni e la vittoria da parte di Barotto, che si è diviso, due individui arrivano sul pianeta Bardak. Il torneo del potere è lo scontro di dimostrativo tra Universo 9 e Universo 7. Goku, appena vede i due individui tra la polvere rilasciata dallo scontro, si mette in guardia, nonostante ciò si avvicina e, appena la polvere si dissolve, il Saiyan abbassa la guardia e si avvicina amichevolmente. Infatti, questi due individui erano Whis e il Daishinkan. Goku, curioso, chiede il motivo della visita. Bardak e Broly si avvicinano rispettosamente verso le due divinità. Whis prende la parola e spiega che Zeno sta organizzando un torneo tra tutti gli universi, il torneo del potere. Goku è eccitato dall'idea. Interrompendo Whis, chiede se ci saranno guerrieri forti. L'angelo risponde di sì e continua a parlare. Parla del fatto che un dato stabilisce la potenza media degli universi. Il ciò caratterizza il lavoro degli idei della distruzione, se è fatto bene o se è fatto male. Gli universi con la potenza media dei mortali più bassa sono il 7 e il 9. E, dato che Zeno non ha mai visto un combattimento, tre guerrieri da entrambi gli universi combatteranno in uno scontro dimostrativo per far capire a Zeno cosa sono i combattimenti e per fargli vedere cosa vedranno il torneo del potere. Goku è eccitato, accetta e propone a Broly e Bardak di partecipare allo scontro. Appena Goku torna, chiede a Whis se l'universo 7 verrà penalizzato, dato che non c'è più giudo della distruzione. L'angelo si ricorda di un particolare del torneo, ovvero che gli universi sconfitti verranno eliminati da Zeno. Quindi incoraggia Goku a fare il suo meglio e continua dicendo che se l'universo 7 dovesse vincere, il più valoroso sarebbe diventato dio della distruzione. Inoltre avrebbe avuto accesso alle supersfere del drago, per un desiderio. I nostri guerrieri, dopo essersi rifocillati, vanno con i dei Shinkan e Whis all'arena dello scontro. Appena arrivati, i nostri guerrieri notano tutti gli idei della distruzione insieme ai loro angeli e Kaioshin. Di fronte vedono i tre guerrieri dell'universo 9, Accompagnati dalle loro divinità I tre si presentano. Sono tre fratelli lupi, chiamati Basil, Lavenda e Bergamo. Kan si avvia sulla piattaforma, dove sono presenti due Zeno e le quattro guardie. Successivamente introduce lo scontro dimostrativo e presente guerrile a tutte le divinità. Goku, con un tono amichevole, saluta Zeno in modo rispettoso secondo le altre divinità che iniziano a storgere un po' il naso. Dopo di ciò, il deshinkan invita i combattenti a posizionarsi sull'arena. Sarà uno scontro 3 contro 3. Goku si presenta ai lupi, i quali però si comportano in modo poco sportivo. I guerrieri del settimo universo, prima dello scontro, diventano Super Saiyan. Broly preferisce però diventare Super Saiyan leggendario. Comincia quindi lo scontro. Goku affronta Bergamo, che sembra parare i suoi pugni. Basil si scaglia su Broly, prendendo un pugno in faccia che lo fa volare via. Lavenda invece viene colpito da Bardak, il quale però viene avvelenato. Sembra che il lupo giallo abbia il potere di avvelenare. Quindi il re si indebolisce piano piano. E l'hai vista di si offusca, fino a non vedere più. Inizia a prendere colpi ovunque e viene poi lanciato sul terreno. Inoltre viene pure colpito con un colpo dell'aura molto potente. Il Saiyan cerca di utilizzare una capacità che è sempre stata il suo tasto dolente. Anzi, il tasto dolente di tutti i Saiyan sul pianeta Bardak. Ovvero la capacità sensoriale. Senza usare gli occhi ovviamente. Qui, dopo essersi fermato, viene colpito alcune volte dalla venda. Nel frattempo la situazione peggiora. Ma nonostante ciò, cerca di concentrarsi, resistendo al dolore. Nel frattempo Goku continua a colpire con tanta potenza Bergamo. Il quale assorbe i colpi e piano piano comincia a gonfiarsi, diventando sempre più alto e potente. Il lupo contraattacca. E Goku cerca di evitare i colpi del nemico, che continua a metterlo in difficoltà grazie alla sua stazza. Basil viene aiutato dal Kaioshin del non universo, Ro. Che gli lancia una speciale pasticca che potenzia Basil. Incrementando la sua potenza alla sua stazza. Il lupo colpisce Broly con dei colpi dell'aura lanciati attraverso dei calci. Il Saiyan, nonostante i colpi, si avvicina a Basil e gli dà una testata. Successivamente lo trascina via col braccio e lo colpisce con un colpo dell'aura esplosivo. Lo scontro procede. Goku e Bardak sono leggermente in difficoltà, anche se stanno limitando il loro potere. I due Zeno però si stanno divertendo a vedere il combattimento e sperano di vedere altri scontri al torneo effettivo. Goku si concentra e diventa Super Saiyan Blue. Decide di utilizzare una strategia che gli permetterà di sconfiggere Bergamo. Dato che a quanto pare ha capito il suo punto debole. I dei sono sconvolti dal vedere il ki divino in mano a Goku. Infatti non potevano immaginarsi che un mortale potesse avere il potere dei dei. Vengono ancora di più stupiti quando Broly e Bardak, per imitare il compagno, diventano anche loro Super Saiyan Blue. Successivamente Broly si confronta contro Basil. Lo colpisce con dei pugni caricati che tramortiscono il nemico. Il quale non riesce a rendersi conto della situazione in tempo. Infatti il Saiyan decide di finirlo usando il suo colpo finale alla massima potenza. Basil, dopo essere stato sconfitto e scagliato via dal ring, si ritrova sulla piattaforma insieme ai suoi dei che lo rimproverano per la sconfitta. Prima di sedersi il lupo, incoraggia i fratelli che stanno combattendo. Nel frattempo Bardak dissolve leggermente il veleno e, con gli occhi ancora chiusi, rileva il nemico. Lo colpisce con un pugno stordente e lo scaglia via dal ring con il suo spirito Saiyan. Tocca a Goku finire tutto. Decide di utilizzare tutta la sua potenza per far scoppiare tutta quella accumulata da Bergamo, il quale, ormai carico di energia, inizia a perdere il controllo e avere difficoltà a muoversi. Il Saiyan si innalza in volo e, usando dei pugni molto potenti, immobilizza il nemico, ormai sfinito, e lo finisce con un HMMA alle spalle. I vincitori sono i guerrieri del settimo universo. Dalla piattaforma dell'undicesimo universo, però, arriva Toppo, la guardia di Vermouth, il dio della distruzione di quell'universo. Goku inizia ad essere odiato da tutti per la sua irreverenza verso le divinità e per il fatto che, appunto, possiede il ki divino. Poi, comunque, l'universo 7 viene preso in cattiva luce, appunto, per questo, perché si pensa che sia un universo irrispettoso verso le divinità, inoltre, senza dio della distruzione. Toppo sfida Goku in un combattimento. Ovviamente il Saiyan accetta, capendo la potenza dell'avversario, si trasforma subito in Super Saiyan Blue. I due si scontrano, avviene uno scambio di colpi molto potenti. Goku prova poi una HMMA contro il nemico, che però la devia. Parte un altro scontro di colpi dell'aura, questa volta. Toppo usa un'onda dell'aura per confondere Goku ed afferrarlo, stringendolo fino a sfinirlo. Qui il Saiyan accenna ad un superamento del suo limite e utilizza il Kaioken sul Super Saiyan Blue. Dopo essersi liberato, lo colpisce ripetutamente. Poi, con una serie... no, dopo essersi liberato, colpisce topo ripetutamente. Poi, con una serie di teletrasporti, scaia diverse KMMA, umiliando il nemico. Qui, ma Goku, che non è da meno, decide di superare il suo limite. Ma i due vengono fermati dal Daishinkan, il quale si congratula con i due e li invita a combattere al torneo del potere. I due guerrieri, seppur comunque ancora frementi per lo scontro, si dirigono verso le loro piattaforme. Poi, il padre di tutti gli angeli prende la parola, congratulandosi con i guerrieri e mostrandosi lieto appunto per il divertimento che i due Zeno hanno avuto. Inoltre, ringrazia tutte le divinità e i combattenti di essere venuti e comunica poi che il torneo si svolgerà nel mondo del nulla, dove non scorre il tempo. Durerà 48 minuti terrestri e gli universi con il livello medio di mortali più alto non parteciperanno. Ovvero, gli universi 1, 5, 8 e 12, i quali sono appunto degli universi gemelli, combatteranno in totale 10 guerrieri per ogni universo, per un totale di 80. E combatteranno allo stesso momento, quindi sarà una battle royale, dove non si potrà uccidere e non si potranno usare delle armi. La sconfitta avverrà solamente nel caso in cui il guerriero verrà appunto o squalificato perché sarà andato contro le regole, oppure se finirà fuori dal ring. Gli universi hanno 48 ore per formare le loro squadre. Goku e gli altri tornano sul pianeta Terra, dove informano tutti della situazione. Però, tenendoli all'oscuro appunto del fatto che gli universi perdenti verranno appunto eliminati. E cazzuoli, il what if può finire qua. Chi saranno gli avversari di Goku nel torneo del potere? Quale sarà l'universo vincitore? E soprattutto, cosa intendeva Goku con il superare il suo limite? E quale sarà il team dell'universo 7? Tutte queste domande avranno risposta nei prossimi episodi del what if. Detto questo ragazzi, il video può finire qua. Fatemi sapere cosa ne pensate del what if. Lasciate un mi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Ed inoltre seguitemi su Instagram e Facebook, dove pubblicherò qualche piccolo aggiornamento riguardo al canale. Non ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto alla Feraz, bella. Ad una prossima live. Ad una prossima inhabiteria. Centre notre feraz Y a la prossima live. Si on, people are atesa. Ant onda Rafale Ad un prossima live. Gi